Protocollata da parte del consigliere comunale di opposizione della città di Agropoli, Gisella Botticchio, una interrogazione all'amministrazione comunale retta dal sindaco Coppola per chiedere come intende procedere l'amministrazione in merito ai posti di lavoro che si libereranno alla fine del mese di dicembre nell'ente comunale. Ho protocollato un'interrogazione molto importante. I posti vacanti in comune che si libereranno a fine dicembre, per esempio all'ufficio protocollo due persone vanno in pensione e non si parla di concorsi, concorsi per la città. Cioè i paeselli piccoli fanno i concorsi, la città di Agropoli non fa i concorsi con 23 mila abitanti. Scusate, poi sento dire in un paesino vicino, dico un paese a caso, dice un concorso, il primo posto va al paese ospitante, gli altri entrano in graduatorio e poi li trovi sul comune. Cioè se fanno i concorsi per loro, persone che rispondono a loro, se è gravissimo, sono atti gravi e ci sono anche dei segretari comunali che si prestano a presenziare le commissioni. Cioè è tutto tra di loro, ma non si può fare questo. Questo qua è un danno, cioè è un danno togliere un ospedale, è un danno togliere la possibilità ai figli di Agropoli di partecipare a un concorso. Noi abbiamo una cosa, abbiamo l'autovelox a 50, abbiamo i varchi attrezzati e in più i proventi non si sa che fine fanno, perché le strade sono come un culo a brodo. Quindi è tutto a danno del cittadino, non hanno neanche quel modo di essere, di dire vabbè ma cerchiamo anche, neanche il fumo negli occhi più, hanno buttato il fumo qualche giorno fa tre posti all'agropoli servizi per due mesi, però ci sono 7-8 posti vacanti per fine anno e dovranno dire, dovranno dire, perché io seguirò passo passo, come seguo la vicenda ospedale seguo la vicenda e i posti di lavoro in comune. Adesso basta, la città è stanga, non ne può più.